Il quesito referendario è stato scritto dal Movimento 5 Stelle Lombardia. La Lega Nord voleva la Regione a statuto speciale, ma era una richiesta incostituzionale. Che cosa chiede il referendum? In pratica chiede ai Lombardi se vogliono che la Regione gestisca direttamente le risorse che oggi lo Stato spende già per conto della Lombardia. Significa diventare una Regione a statuto speciale? Assolutamente no, questa è solo la propaganda della Lega. La proposta del Movimento 5 Stelle invece resta nel quadro dell'Unità Nazionale. Serviva proprio un referendum? Sì, perché per il Movimento 5 Stelle è fondamentale consultare i cittadini su un tema così importante. In passato la Lombardia ha già provato a chiedere maggiori competenze al governo e non ha mai ottenuto nulla. L'esito del referendum darebbe più legittimazione per trattare con il governo. Vuol dire che toglieremmo fondi alle altre Regioni? Certo che no, si chiede di gestire direttamente in Lombardia risorse che lo Stato già spende per la Lombardia. Perché votare sì? Perché così la Lombardia potrà gestire meglio in casa risorse destinate a innovazione, formazione, ricerca e molto altro, tornando a essere la locomotiva d'Italia. Grazie. 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 Grazie.